a te piacerebbe? vedi che son terzo cazzo non è giusto se parti male ti incula quindi parti bene e bravo si è partito bene eh lo so sto già mollando mi son già girato madonna lo evita madonna lo evita madonna lo evita madonna lo evita eh tu sono passato quando ti sei girato, che la mia è parita in drift ma l'ho tenuta ma allora secondo te sti macchinone vince la bmw guardate che l'm3 è una bestia si abbiamo capito che tor ha abbandonato la sessione, minchia che palle mia sei incantata la console ok ma guarda che potenza bmw forever eh sarebbe stata una bella gara cazzo stavamo dominando già la partenza cazzo perchè faccio le stronzate invece di andare piano minchia tutti in drift me l'hanno fatta ah tor ha abbandonato la sessione, è una cosa nuova quanto sei? ok 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 madonna raga ammirate la potenza del bmw m3 gt2 una potenza proprio dobbiamo farlo sapere anche tutti quelli che guardano guardando un video madonna eh ci è mancato un leggero proprio ligermente ci è mancato poco proprio quindi sei secondo ah quindi sei secondo ma hai detto che è stato il mio miglior giro ah ma non conta neanche gli altri giri delle altre volte allora Do I still try to chase me tight? Can only hold my breath? All my sanity has gone and I cannot control myself. Do I still try to chase me tight? Can only hold my breath? I can only hold my breath. Bastardo il secondo mi sta recuperando. Il secondo mi sta recuperando. Madonna che potenza! Guardalo qui e passa il traguardo! Adesso si schianta la macchina ovviamente. PAM proprio! Il computer non sa guidare! Il computer non sa guidare! PRADETE